Buongiorgio ragazzi! Pronti per una nuova pazza lezione di noccioline? No! Nooo! Perfetto! Oggi parleremo di Galileo Galilei. Galileo Galilei, Galileo Galilei, Galileo Galileo, fu un matematico, un astronomo e un fisico. E' considerato il padre della scienza moderna perché creò il metodo scientificarello basato sull'osservazione oggettiva della realtà. Non te devi inventare niente, guarda e basta. L'invenzione che permise a Galileo di fare le sue scoperte fu il cannocchiale con cui poté studiare la superficie della luna, la via Lattea e la vicina a... Oddio! Riuscì persino a scoprire i quattro maggiori satelliti di Giove. Nel 1611 la chiesa iniziò a prestare attenzione alle scoperte di Galileo. Lo accusarono di aderire alle teorie copernicane che secondo la chiesa cattolica contraddicevano le sacre scritture. In particolare, Galileo era d'accordo con Copernico sul fatto che fosse il sole al centro del sistema solare e non la terra al centro dell'universo come invece voleva la chiesa. Quanto egocentrismo! Nel 1616 i teologi della chiesa di Roma affermarono che le idee copernicane erano da considerarsi addirittura eretiche. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, opera di trattistica scientifica composta tra il 1624 e il 1630, il nostro eroe distrusse le teorie del sistema tolemaico aristotelico, secondo il quale la terra era firma al centro dell'universo, con i pianeti che le giravano intorno, a favore del sistema copernicano, basato sulla teoria eliocentrica. Nel 1633 arrivò la chiamata dell'inquisizione, che minacciò Galileo di fare una grigliata col suo culetto scienziato. Pertanto fu costretto ad abiurare e fu mandato in esilio ad Alatri, dove morì solo nel 1642. Cioè, ti rendi conto? Il 31 ottobre 1992, 359 anni dopo, Papa Giovanni Paolo II riconobbe gli errori commessi dalla chiesa nei confronti di Galileo. Oh oh oh, ci avete messo poco, ora sì che sta meglio, bravi! Oh oh oh, ci avete messo poco, ora sì che sta meglio, bravi! Grazie! 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 Grazie!